Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno con un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Dopo i suoi primi passi come attrice, Mara Veniera ha fatto il suo debutto come conduttrice televisiva alla fine degli anni Ottanta, raggiungendo il picco del successo negli anni Novanta con la conduzione del programma Dominica In per ben 14 stagioni. Durante la sua lunga conduzione, le sono stati attribuiti i soprannomi affettuosi di Signora della Domenica e Zia Mara. Tutti siamo ansiosi di scoprire chi sarà il prossimo volto domenicale dopo di lei. Ma individuare un'erede si prospetta un'impresa ardua. La curiosità non manca e, stando alle ultime indiscrezioni, emerge una donna misteriosa come una delle possibili candidate. La futura conduttrice ha catturato l'attenzione di tutti con la sua abilità, ma in una recente intervista ha risposto con onestà alla domanda sulla sua possibile presenza Dominica In. Ma di chi stiamo parlando? Rimanete fino alla fine del video per scoprirlo insieme a noi e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. La 44enne di massa ha dichiarato che quella fascia oraria comporta una grande responsabilità e ritiene che per affrontarla bisogna essere veramente predisposti a comunicare con un vasto pubblico. Ha toccato poi diverse tematiche, dichiarando di non vedersi sposata al momento e, sebbene non tutte le donne possano diventare madri, le piacerebbe accogliere in affido un bambino bisognoso di una casa, considerando che chi non è sposato non può adottare. Parliamo di Francesca Fialdini e queste sincere parole hanno rivelato un lato più intimo della splendida conduttrice.